Al 28 di ottobre abbiamo ancora oltre il 50% dell'uva Italia e anche di uve apirene attaccate alle piante per la concorrenza sleale che abbiamo dai paesi che non fanno parte del MEC. Il mercato italiano dell'uva da tavola si rivolge al Brasile e ad oggi i produttori pugliesi, in particolare quelli del settore occidentale della provincia ionica, hanno ancora sulla pianta il 50% del prodotto. L'uva sta ammarcendo a seguito dell'alluvione e dell'umidità elevatissima. Depositi e stabilimenti per i mosti muti, quelli destinati alla produzione di sciroppi, sono pieni e non acquistano più prodotto. L'assessore regionale all'agricoltura Fabrizio Nardoni, su invito di Fima e Tavolo Verde, ha fatto una ricognizione nelle aziende. Ascoltiamolo. Abbiamo un mercato che preferisce un'uva proveniente dal Brasile o da altri paesi e quindi mettendo in difficoltà l'uva del nostro territorio. In molti altri territori c'è una difficoltà perché l'uva da tavola non ha subito un danno a seguito di eventi atmosferici e quindi c'è un problema di calamità naturale. Quindi è un momento particolarmente difficile. Dobbiamo trovare un sistema per cercare invece di valorizzare questa parte della filiera, questo primo anello che è quello essenziale e quello fondamentale. Un'altra annata in malora, nessuna politica di protezione da parte del Governo nazionale, a cui si aggiunge l'ennesima calamità naturale.